Dopo aver imposto il ritmo in qualifica, Roberto Colciago domina con straordinaria autorità anche le due gare valevoli per il quarto round del campionato italiano Turismo Endurance. Nell'appuntamento che ha segnato il giro di Boa stagionale, l'alfiere di Seat Motorsport Italia si riporta in testa la classifica dell'affascinante serie Tricolora Cixai al termine di due gare dominate in lungo e largo e che hanno visto grandi protagonisti anche Piero Necchi, Beppe Gabbiani e Andrea Bacci sul podio di gara 1, Nicola Bianché e Paolo Meloni su quello di gara 2, col San Marinese tra l'altro al suo miglior risultato stagionale. L'ex capoclassifica Luca Cappellari guadagna un sesto ed un quarto posto nelle due gare, un'altra coppia attesa tra i protagonisti Federico Bonamico e Federico Bellini sono rispettivamente settimi e sesti, Stefano Valli e Walter Meloni nella classe 3000 e Costantini Ciro e Marco Cefis tra le Supercopa si dividono invece le vittorie delle rispettive classi. Con i risultati del Mugello, Marsilio Canuti, star team, guadagna invece la leadership del trofeo Leon con un punto di vantaggio su Trevisio Olzucchi.